I programmi di ecologia sociale antropo-spirituale dei club ecologici sociali di Padova cercano di prendersi cura della soprietà sia nel continuare l'incontro del club sia coltivandola attraverso un intenso impegno settimanale che ognuno di noi con le capacità che ha, con le competenze, con la disponibilità del tempo a disposizione, cerca in tutti i modi di trasmettere. Naturalmente non tutti partecipano a tutti gli eventi, però io vedo che c'è una grande disponibilità a partecipare, un grande desiderio, anche una fatica nel farlo, indubbiamente. E allora volevo brevemente ricordarvi qual è un po' la nostra abitudine. Ovviamente dopo l'incontro del club nei primi giorni della settimana abbiamo incominciato anche a riflettere intorno ad Assisi 2021. Il giovedì lo dedichiamo verso le ore serali a una scuola permanente, un'educazione ecologica continua che poi prosegue il venerdì con un evento culturale aperto a persone disponibili, esperte, che in qualche maniera approfondiscono alcuni temi importanti nel coltivare la sobrietà. Il sabato e la domenica, nel pomeriggio, ora che la stagione va verso un prolungamento delle giornate, verso le ore serali, ci soffermiamo su una dimensione seminariale, sia locale sia aperta all'esterno, nella quale continuiamo a sviluppare, a perseverare su una ricerca che ci renda sempre più liberi, sempre più capaci di conoscere e naturalmente di reagire in modo adeguato e sobrio alla situazione di paura e di panico che si è creato. Noi desideriamo ovviamente con l'impegno e la perseveranza di far sì che la paura si trasformi in coraggio e che il coraggio si sposi con la prudenza e insieme si continui a crescere e maturare svelando alcuni aspetti della realtà che viviamo sotto una luce molto più feconda e fertile, appunto molto più sobria.